Siamo seduti adesso, ti devo dare una notizia molto importante. So se dobbiamo divorzare? No, ancora è presto. La notizia è che noi saremo il 16 luglio a Siracusa, al Siracusa Pride, come madrine, una coppia fantastica come noi. Sei contento? E allora il 16 luglio sabato, al Pride di Siracusa, dell'orgoglio, della resistenza e della libertà. E noi aggiungiamo della non violenza e dell'amore. Baciami, stupido.